La USL numero 10 aumenta i servizi di odontoiatria grazie ad una collaborazione con l'Università degli Studi di Padova. Vediamo i dettagli nel nostro servizio. Qualità e tipologia della prestazione sono i punti che hanno indirizzato l'Università di Padova nella scelta della USL numero 10 come partner in questa collaborazione. La clinica odontoiatrica dell'Università di Padova invia gli specializzanti a finire il corso di studi presso la nostra unità operativa di odontoiatria a San Donato di Piave. Questa collaborazione ci porterà ad aumentare il numero delle prestazioni da parte di questa unità operativa che già sta facendo molto ma potrà fare anche molto di più. In un momento storico in cui la crisi economica sta portando sempre più gente a non curarsi i denti, a non fare quelle attività che prima si faceva normalmente negli ambulatori privati oppure è costretta magari ad andare all'estero, in Croazia, sappiamo tutti questi fenomeni. A fronte di un aumento del 30-40% della richiesta di prestazioni, la presenza in azienda degli studenti permetterà di implementare l'attività del servizio offerto all'utenza. Sono migliaia le prestazioni che viene fatte dalla nostra unità operativa dai 16-18 mila e noi abbiamo il dovere di dare una risposta a tutti in tempi brevi. Vogliamo che i nostri cittadini possano curarsi anche quelli più indigenti, quelli che hanno più difficoltà all'interno della nostra azienda e lo abbiamo fatto con questa collaborazione. Di cui ringrazio il dottor Capuzzo che è il primario e il dottor Stellini che è il direttore della clinica universitaria di Padova. Si tratta di un impegno da parte dell'azienda che rivolge la propria attenzione alle fasce deboli e ai pazienti vulnerabili. Ovviamente noi come azienda pubblica dobbiamo dare delle risposte prevalentemente e soprattutto ai pazienti e ai soggetti vulnerabili. Però non possiamo trascurare anche tutto il resto della popolazione e quindi chiunque decide di accedere ai nostri servizi troverà sempre una risposta. Dottore, quali sono i pazienti vulnerabili? Sono i pazienti disabili, sono i pazienti oncologici, sono i pazienti cardiopatici, sono i pazienti nefrologici, sono i pazienti psichiatrici e quindi tutte queste categorie qui a cui diamo noi una particolare attenzione. Per dare un'idea noi diamo delle risposte a pazienti che devono essere sottoposti a interventi cardiochirurgici o a pazienti oncologici che devono iniziare delle particolari terapie farmacologiche, nel giro di una settimana noi abbiamo dato la risposta completa al paziente. Quindi sono dei tempi estremamente brevi. La collaborazione con l'Università di Padova è solo l'inizio di un percorso progettuale che punta ad un futuro ampliamento dell'unità operativa, arrivando così a soddisfare il maggior numero di pazienti in tempi piuttosto brevi. 15 giorni, 20 giorni massimo per l'attività chirurgica. Per le cure odontoiatriche viaggiamo sui 6-7 mesi, che però è la media di tutto il Veneto. Con questo accordo l'obiettivo nostro è di ridurla. Sull'ortodonzia abbiamo qualche problemino ancora, ma stiamo lavorando per ridurre anche lì i tempi. Se le cose vanno come dovrebbero andare, in pratica stiamo parlando di raddoppiare il tutto. E i ragazzi e gli studenti come sono? I ragazzi sono splendidi, sono bravissimi, sono preparatissimi, non avevo nessun dubbio, vista la provenienza dell'Università di Padova e della clinica diretta del professor Stellini. Sono veramente contento di poter dare una maggiore formazione professionale a loro e nello stesso tempo di poter dare una risposta a tutti gli utenti della nostra azienda. Grazie a tutti.